Uccise un pensionato per un debito non pagato, condannato in via definitiva a 14 anni. Si tratta dell'omicidio di Rocca Coloriosa. Dovrà scondare quindi 14 anni il meccanico di origine rumene, Florin Nuto, accusato di aver ucciso con un colpo di zappa il pensionato Vincenzo Caruso. Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha ritenuto inasmissibile il ricorso presentato dall'avvocato dell'imputato, un quarantenne meccanico. La Suprema Corte ha confermato le sentenze precedenti e dunque la pena già stabilita sia in primo grado che in secondo grado è condannato Nuto a risarcire anche le quattro parti civili. Il quarantenne resterà in carcere a Forni dove è stato rinchiuso sin dagli inizi di questa vicenda avvenuta il 29 novembre del 2016. Ricordiamo quanto avvenne a Rocca Gloriosa. Il meccanico, durante una notte, si era recato nell'abitazione del sessantenne di Rocca Gloriosa è attesa che Caruso arrivasse in seguito a una lite per un debito di circa 500 euro mai pagato dopo che erano stati effettuati alcuni lavori all'auto del pensionato. Il meccanico gli sferò quindi un colpo mortale con una zappa. Il corpo di Caruso venne rinvenuto solo il giorno successivo. I carabinieri riuscirono quasi subito a risalire al quarantenne meccanico a far scattare le manette e ora con la sentenza della Corte di Cassazione arriva anche la pena definitiva a 14 anni per omicidio.